Ecco mi devo alzare io E' ripreso da un paio di minuti il secondo tempo Qui a Montemarconi di Atessa Sempre 0-0 Vittus Castelfrentano-Baltisani Calcio d'ancolo adesso Sì! Sì! Rete, rete, rete! Rete, casignati Tucci, Tucci Federico Tucci ha realizzato la prima rete Federico Tucci sul calcio d'ancolo Ecco, ecco Dai, dai, dai! Dai ragazzi non bollate 1-0 A nostro favore ha segnato il numero 9 Federico Tucci oggi che gioca da centravanti Numero 9 La panchina, hai insultato anche la panchina Sì, sì, va Accorcia Nico! Accorcia sull'uovo! Accorcia! No! No!